Non è un lavoro facile da quando si è insediato alla guida della Leonia, subito ad affrontare un'emergenza, ma lei era abituato a questo, un piano straordinario per la raccolta rifiuti che ha ricevuto una proroga, ma persistono comunque delle criticità. Sì, perché infatti il problema non è in termini di raccolta, è un problema in termini di impianti. Il problema principale, il collo di bottiglia, sono gli impianti che non consentono di scaricare liberamente né alla Leonia né purtroppo alle aziende che vengono in soccorso della città, quelle appunto disposte dal commissario. E con lo stato dell'arte che riguarda in particolare le discariche, i punti di conferimento dei rifiuti per la città di Reggio Calabria, qual è? Diciamo che il problema è che un po' tutti gli impianti stanno lavorando a ritmo ridotto oppure in maniera non continuativa e quindi questo rallentamento nelle capacità di conferimento fanno sì che noi non riusciamo quando iniziamo un turno di lavoro ad avere tutte le macchine vuote, ma iniziamo spesso il turno di lavoro con delle macchine piene e che quindi non possono iniziare una raccolta di rifiuti. Ringraziamo il commissario per aver disposto un piano di raccolta supplementare, però lo esortiamo a darci un piano di scarichi straordinari perché il problema non è la raccolta ma sono appunto gli impianti. Se noi avessimo la possibilità di scaricare presso gli impianti in maniera continuativa l'emergenza rientrerebbe. Invece vediamo che anche le aziende disposte dal commissario hanno delle difficoltà di scarico e quindi la situazione non migliora o migliora troppo lentamente. I cittadini sono esasperati? I cittadini sono esasperati e lo comprendo. Io però li voglio invitare a fare quello che possono fare loro, quello che è di loro competenza, cioè la raccolta differenziata che pur in queste condizioni è l'unica valvola di sfogo perché il materiale raccolto in modo differenziato quello va a destino facilmente appunto a riciclaggio e non ingombra le strade e le discariche e li invito anche a non prendersela con i lavoratori della Leonia. Quelli che stanno lavorando non sono in nulla responsabili della situazione di giacenze per le strade.